Buongiorno da Edo, vedete che ho la maglietta di protettore della software supply chain questo perché ieri sera ho fatto questo primo meetup del Pug Bologna, Programmer User Group dove abbiamo parlato appunto di software supply chain, è stato carino c'erano un po' di persone, naturalmente non mi aspettavo grossi numeri da un meetup dove ci dovevamo trovare in person, di persona, però c'era un po' di gente, è stato divertente poi abbiamo fatto un po' di chiacchiere, abbiamo fatto un aperitivo offerto da Spark insomma è stata una bella serata che spero di replicare fra un po', parliamo naturalmente d'altro con altri speaker, anzi se vi volete candidare insomma scrivetemi oppure andate su meetup.com cercate Pug Bologna, vi iscrivete lì così vi arrivano tutte le comunicazioni sui prossimi eventi e magari ci avete voglia di venire a fare un giro, l'abbiamo fatto in Zanichelli a Bologna probabilmente lo faremo ancora lì ma poi insomma se ci saranno altre occasioni, altre location insomma ci sposteremo, insomma mi piace trovarci insieme, parlare di codice open source, cloud, insomma è figo, è divertente e poi ti porti a casa anche qualcosa credo a livello formativo ma anche un po' di relazioni personali, basta questa era un po' l'introduzione che volevo fare, ah volevo anche fare un piccolo in memoriam perché sapete che è stato spento, è stato ritirato Atlas, il robot di Boston Dynamics vi ricordate Atlas, quel robot umanoide con tutti i cavi, roba idraulica che lo faceva muovere come un essere umano con una discreta agilità tra l'altro, vi ricorderete anche i video dove veniva maltrattato, spinto per terra, picchiato con dei pali di legno, insomma è stato un robot che per una decina d'anni ci ha tenuto compagnia con certi filmati su YouTube proprio da Boston Dynamics poi ci metteva anche a fare parkour, saltava qua e là dalle cose, gli facevano dei percorsi a ostacoli lui riusciva a superarli, poi gli facevano anche trasportare dei pesi, insomma è come un attore di cui abbiamo visto un po' di film in questi ultimi anni che ora ci lascia, non è un essere umano ma è un robot che verrà probabilmente esposto da qualche parte, un museo all'ingresso di Boston Dynamics, insomma ricordiamo Atlas che viene ufficialmente spento, non possiamo dire morto perché non è mai stato vivo tecnicamente, insomma un minimo dispiace di sapere che Atlas non c'è più? Vabbè, in realtà c'è un nuovo Atlas, il suo successore, che è completamente elettrico, non ha più i tubi, non ha più cavi attorno al corpo, insomma non è un mostrone ma è un corpicino un pochino più esile e tutte le articolazioni sono completamente snodabili quindi anche il suo modo di muoversi, di rialzarsi quando cade è abbastanza inquietante, non so voi tra l'altro c'è questa faccia con una mega telecamera davanti, insomma questo probabilmente sarà il nuovo Terminator e la razza umana sarà spazzata via da un esercito di robot che assomigliano a dei riflettori e ora vado con le news di oggi Allora vi ricorderete che l'anno scorso abbiamo parlato del lancio di un rivoluzionario dispositivo che dovrebbe sostituire gli smartphone, gli smartwatch, tutte queste robe qua si chiamava, si chiama Humane AI PIN, Humane è l'azienda, AI PIN è il nome del prodotto ed è questo device, questo dispositivo molto piccolino e poco pesante, poco ingombrante insomma che si attacca alla maglietta, tipo fosse una clip, tipo un microfonino lavalier si mette proprio lì dove ve lo aspettereste sul petto e con questo dispositivo la promessa era di poterci parlare, interagire come se fosse uno smartphone ma senza lo smartphone con due fondamentali tipi di interazione, tre anzi fondamentali tipi di interazione uno il tap con il dito fisicamente sopra questa clip due la voce, quindi una volta che è stata attivata parlando si possono impartire dei comandi vocali a questo device tre l'uso di un proiettore che proietta una specie di mini schermo sulla mano, sul palmo della mano dell'utilizzatore da cui poi si può anche impartire degli altri comandi perché ruotando la mano, facendo il pinch con le dita si possono insomma selezionare delle voci da un menu e queste sono un po' le interazioni che si possono avere con questo UMain AI PIN il tutto condito, come dice il nome, da intelligenza artificiale quindi questo PIN comunica con i server di UMain che fanno girare le istanze di GPT-4 queste interpretano i comandi, si collegano a vari altri servizi, varie app prendono le risposte alle vostre domande e poi ve le girano queste risposte possono essere anche delle azioni come prendere delle note o telefonare a qualcuno bene, UMain AI PIN è uscito finalmente, è disponibile solo per il pubblico americano insomma è uscito negli Stati Uniti e sono uscite quindi anche le recensioni che ne parlano e com'è questa rivoluzione dell'interfaccia uomo macchina? apparentemente una schifezza totale tutte le recensioni che ho viste sono super negative e prendo quella di Deverge per raccontarvelo un po' ma sappiate che questa di Deverge è abbastanza negativa ma il tono di praticamente tutte le altre recensioni che ho visto è lo stesso quindi vado un po' a leggervi alcuni estratti l'idea dietro AI PIN è semplice è un telefono senza uno schermo questo ve l'ho un po' raccontato quindi invece di scrivere su una tastiera date i comandi, impartite i comandi AI PIN nelle sue varie modalità tra l'altro non ho menzionato che la comunicazione con i server avviene attraverso una connessione cellulare T-Mobile e soltanto T-Mobile quindi non usa la rete del vostro cellulare il vostro numero di telefono ma dovete attaccarci un'altra connessione che tra l'altro pagate e quindi il costo totale di questa operazione è di 699 dollari per acquistare il PIN e 24 dollari al mese per l'abbonamento e per la connessione a T-Mobile e ai server di UMaine quindi inizia così il pezzo di Deverge dovresti comprare questo aggeggio questa è una risposta semplice no, assolutamente no assolutamente no, no, no questo PIN è un'idea interessante che è talmente finita male e talmente rotta in tantissimi modi inaccettabili che non posso pensare a nessuno a cui raccomanderei di spendere 699 dollari per questo device e i 24 dollari di subscription mensile nessuna delle promesse di AI PIN è stata mantenuta e niente di tutto quello che compone l'AI PIN non l'hardware, non il software e nemmeno GPT-4 è pronto intanto per chi sta guardando questa è la forma finale di AI PIN questa è la versione bianca c'è anche una versione nera e vedete anche lo score della recensione di Deverge che è 4 su 10 in realtà poteva essere anche meno leggendo un po' il tono della recensione ma salto alla recensione vera e propria ogni volta che vuoi parlare con AI PIN premi e tieni premuto sul touchpad frontale quindi non stai in ascolto di una wake word come con Alexa o Siri ecco a quel punto quando sei attivata parli e impartisci il tuo comando qualunque cosa AI PIN può fare tu glielo devi chiedere cioè glielo impartisci con comandi vocali può rispondere a domande in stile CGPT può fare telefonate può prendere delle foto ecco una cosa che non avevo detto ha una piccola webcam, una piccola fotocamera quindi può prendere delle foto può anche inviare messaggi vocali dirti che cosa c'è intorno a te proprio riprendendo il mondo con la sua telecamera e alcune cose in più puoi anche fare alcune cose facendo solo il tap sul touchpad come faresti con delle shortcut con il computer quindi per esempio con un double tap con due dita puoi prendere una foto con il double tap e poi tenendo premuto con due dita puoi fare un video e all'inizio sembrava come i primi giorni di Alexa e Siri circa una decina di anni fa quando scoprimmo che dirgli imposta un timer di 10 minuti era molto più semplice che aprire il telefono e aspettare appunto di andare sulla app dell'orologio tranne che purtroppo l'AI PIN non può settare un timer o una sveglia non può aggiungere cose al tuo calendario non può neanche dirti cosa c'è sul tuo calendario puoi creare note e liste che poi vengono messe nella app di Humane Center su web che è dove devi connettere il tuo device dove devi connettere tutti i tuoi contatti dove trovi le tue foto ma se provi ad aggiungere qualcos'altro a una lista che hai già creato praticamente questa roba fallisce per nessuna ragione insomma e se il problema con molti assistenti vocali è che non possono fare tante robe beh l'AI PIN può fare ancora di meno buongiorno che non è buongiorno da Edo ma è uno dei due founder di Humane ha detto a The Verge che in estate arriverà un corposo aggiornamento del software del firmware dei server e questo aggiungerà i timer l'accesso al calendario altri modi di usare il touchpad insomma tante cose in più ma a The Verge naturalmente hanno detto benissimo ma la recensione si deve concentrare sul prodotto che esiste oggi che è in vendita oggi non su promesse di cose che arriveranno in futuro peraltro sottolineiamo che Humane ha licenziato parte del suo staff proprio recentemente e quindi insomma non so se si può prospettare un rosio futuro anche per Humane e per gli aggiornamenti e proseguo con la recensione ogni volta che AI PIN prova a fare qualunque cosa deve fare un processing di una query aspettando il tempo di attesa dei server di Humane che nel migliore dei casi sono un po' lenti nel peggiore dei casi sono un totale fallimento per esempio vuoi dirgli di annotarti che in librerie ci sarà un grosso sconto su alcuni libri la prossima settimana facile aspetta 10 secondi mentre processa processa e poi alla fine ti arriverà un generico errore non ho potuto aggiungerlo e questo non va molto bene il recensore di The Verge stima che metà delle volte che ha provato a chiamare qualcuno a telefonare a qualcuno semplicemente non ce l'ha fatta non ha telefonato e metà delle volte che qualcuno gli ha telefonato l'AI PIN ha mandato la telefonata direttamente al voicemail senza nemmeno squillare dopo alcuni giorni di test l'unica cosa su cui davvero posso fare affidamento all'AI PIN è dirmi l'orario poi c'è anche il problema che è costantemente caldo è sempre caldo nei test diventava incredibilmente caldo dopo pochi minuti dall'uso insomma si può sentire la batteria che non ce la faceva più a tenere il peso di AI PIN anche dopo un paio di minuti insomma arriva la notifica che AI PIN deve spegnersi per fare un cooldown insomma per raffreddarsi un pochino e questa cosa è successa un sacco di volte durante i test l'AI PIN arriva con due battery booster che praticamente sono i PIN che si attaccano magneticamente al device e ti servono anche per attaccarli dietro il tessuto della maglietta della camicia in modo da reggere l'AI PIN come clip alla tua maglietta questi sono anche battery booster il problema è che nonostante il battery booster la batteria non ce la fa dopo poche ore si scarica anche in idle cioè anche senza eseguire davvero azione semplicemente stando in attesa dei comandi dell'utente poi c'è il problema di usabilità dello schermo proiettato proprio dal proiettore di AI PIN qua vedete se state guardando sull'immagine di The Verge la mano utilizzata come schermo cioè il proiettore va a proiettare sulla mano proietta solo sulla mano devi identificare che sia esattamente una mano che sia a una certa distanza e altezza dal proiettore di AI PIN a quel punto inizia a proiettare e la mano serve anche come strumento di input perché a quel punto facendo dei movimenti per esempio ruotando un po' il polso insomma agitando un po' la mano e poi facendo i pinch con le dita si possono scorrere delle liste selezionare degli oggetti insomma impartire alcuni comandi il problema è che come dice il recensore tutto questo è molto macchinoso è difficile beccare l'oggetto che si vuole cliccare che si vuole aprire al primo colpo bisogna fare vari tentativi non sono movimenti naturali insomma tutto questo appare abbastanza farraginoso inoltre la risoluzione del proiettore è soltanto 720p in verde questo non aiuta la UI in condizioni di molta luce non si legge niente insomma ci sono vari problemi infatti conclude il recensore se volevate fare qualcosa che simula lo schermo di uno smartphone forse era meglio utilizzare uno schermo concludo la recensione con la cosa più divertente interessante che il recensore è riuscito a fare con AIPin cioè stare di fronte a un negozio a un ristorante a un bar e chiedergli le recensioni di questa attività commerciale insomma online e qualche volta AIPin è riuscito a dargli insomma una media di recensioni e quindi fargli ipotizzare un futuro dove questa roba sia effettivamente utile e funzionale il problema è che più della metà delle volte questa cosa non ha funzionato sia per problemi di GPS che per problemi di riconoscimento dell'immagine nonostante ci fosse magari il logo ben in vista di fronte alla facciata dell'edificio insomma più delle volte AIPin o per problemi di server o di connessione eccetera non è riuscito a identificare il posto dove ci si trovava e quindi poi fare il fetch delle informazioni sulle recensioni su web e questo ovviamente è un grosso problema quindi in generale per ogni interazione completata con successo con AIPin ce ne sono almeno tre o quattro che non hanno funzionato ti può anche chiedere il meteo delle volte funziona delle volte no delle volte si sbaglia con la location insomma questa roba non può funzionare correttamente poi aggiungiamo che come lettore musicale si è rivelato un disastro perché intanto si connette soltanto a Tidal quindi chi non ha Tidal è tagliato fuori poi Tidal non è nemmeno i podcast poi anche il riconoscimento del comando di riprodurre un certo brano più delle volte non ha funzionato come ci aspetteremo per un errore dei server insomma e l'altra feature che poteva essere piuttosto cool insomma di AIPin era la traduzione in tempo reale avevamo visto alcune demo confessionate ad arte da Youmain con conversazioni con il pin che traduceva in tempo reale e tra l'altro con anche riconoscimento automatico della lingua insomma potenzialmente una cosa carina in realtà questa cosa non funziona insomma il recensore approvatorio a volte anche a parlare con madrelingua giapponesi e coreani insomma non funzionava invece di tradurre le cose le ripeteva insomma non funzionava anche questo insomma concludiamo dicendo semplicemente che AIPin non funziona e al massimo per adesso potremmo considerarlo un prototipo o un beta test di qualcosa che però viene venduto a 700 dollari e con una subscription di 24 dollari al mese quindi insomma non è consigliabile per nessuno e sicuramente non è un prodotto di successo che sostituirà o neanche lontanamente proverà a sostituire smartphone e smartwatch almeno nel prossimo futuro nessuno ci andrà neanche vicino o nella seconda parte del podcast di oggi volevo parlare di layoff quindi di licenziamenti sapete che ogni tanto andiamo a vedere com'è lo stato dei licenziamenti nella industria del tech sapete che purtroppo ce ne sono un po' e non si fermano apparentemente Google è uno di quelli che ha proseguito su questa insomma china questa ondata di licenziamenti già dal 2022 aveva iniziato con layoff anche abbastanza massicci vi ricorderete quelli giganteschi del gennaio del 23 con 12.000 layoff quindi 12.000 licenziamenti e Google il CEO di Google Sondar Pciai aveva promesso altri layoff quest'anno e al momento pare che questa promessa sia mantenuta in particolare i layoff si concentrano nei settori del real estate quindi nella gestione degli edifici delle proprietà immobiliari di Google e nei dipartimenti di finance dipartimenti finanziari c'è una copia del memo che il CFO di Alphabet Ruth Porat ha mandato ai dipendenti dicendo dando un po' la colpa di questi layoff all'AI cioè alla ricerca dell'opportunità di fare più business con l'AI e anche che l'AI potrà sostituire varie mansioni aziendali nell'enterprise di Alphabet rendendo quindi poi questi lavoratori sostituibili non è chiaro come ci dice questo articolo di IAS tecnica come possa l'AI sostituire dei lavoratori nei campi del real estate e del finance ma insomma queste sono le parole di Ruth Porat e parlando sempre di licenziamenti in Google questi però non sono layoff sono proprio licenziamenti in tronco di 28 persone che sono state coinvolte che hanno deciso di protestare contro Google per Project Nimbus che è quell'accordo con il governo israeliano per servizi cloud insomma che il governo sta usando per alcuni suoi workload non meglio specificati ecco questi dipendenti di Google insieme a un'associazione che si chiama No Tech for Apartheid che è insomma una campagna che cerca di sensibilizzare sull'uso delle AI in ambito militare ecco hanno preso parte a un sit-in di protesta nelle sedi di Google di New York e di Sunnyvale in California ebbene la polizia intervenuta poi chiamata dalla security di Google ha arrestato nove di questi dipendenti dopodiché Google ha fatto sapere più tardi che questi nove dipendenti insieme ad altri coinvolti in queste proteste erano stati licenziati hanno parlato di comportamenti che violano le policy aziendali e i regolamenti e quindi non sono tollerati non sono tollerabili e verranno sempre terminati Project Nimbus è in vigore è un contratto insomma un accordo che è in vigore dal 2021 che appunto rende Google fornitore di servizi cloud al governo israeliano Google non è d'accordo con la ragione della protesta che tra l'altro non è neanche la prima in sede a questa azienda su Project Nimbus perché dice che i workload cloud in particolare non sono utilizzati per operazioni militari ma sono in tutt'altro ambito quindi insomma non è disposto nemmeno a confrontarsi sia con questi lavoratori e quelli di No Tech for Apartheid ma neanche con l'unione sindacale di Google l'Alphabet Worker Union quindi insomma No Tech for Apartheid dice che Google non gli dà nessuna risposta e non vuole iniziare un dialogo Google dice che comunque il Project Nimbus continuerà e non c'è ragione di fermarlo quindi insomma la protesta non si fermerà sicuramente qua a quanto dice l'organizzazione vedremo nei prossimi mesi come evolverà chiudo il giro dei layoff dicendo che anche in Stability AI ora ci sono dei layoff circa il 10% della forza lavoro a quanto si sa da CNBC e vi ricorderete che abbiamo parlato qualche tempo fa su un video su YouTube del fatto che in Stability ci sono un po' di problemi finanziari economici il CEO se n'è andato adesso c'è un CEO ad Interim e l'azienda ha iniziato a licenziare delle persone apparentemente proprio per far fronte ai problemi economici Stability ricordo che sono quelli di Stable Diffusion hanno appena rilasciato la versione 3 dell'API di Stable Diffusion però i grossi costi che devono sostenere per le GPU per l'affitto delle GPU in Cloud insomma li stanno rendendo una compagnia abbastanza a rischio sul profilo economico e finanziario vi do conto anche di layoff in IBM questa in realtà è una notizia di un mesetto fa però insomma giusto per chiarire che i layoff sono orizzontali in tutta la industria anche IBM prende parte a questa notte di layoff sempre giustificando la decisione di tagliare dei posti di lavoro con l'arrivo e l'ingresso della AI che sostituirà soprattutto al lato back-end alcune professionalità a quanto dicono insomma in IBM questo giusto per completare la bellezza la frizzantezza del giro dei layoff nel podcast di oggi vi do un paio di link che spero che vi interesseranno il primo è che il codice sorgente di Descent 3 diventa open source questa è una news che mi ha segnalato su Mastodon Rioma 123 che ringrazio ecco se avete delle news da segnalarmi scrivetemi su Mastodon che mi piace insomma prendere dei suggerimenti dagli ascoltatori del podcastone Descent 3 è un videogioco degli anni 90 fin gli anni 90 è una specie di è uno shooter in prima persona dove si pilota una navicella insomma una navetta tutto tridimensionale molto figo è stato rilasciato per Windows poi dopo era stato convertito anche per Linux un anno più tardi ecco il codice sorgente di Descent 3 adesso è disponibile su GitHub eccolo qua con licenza MIT quindi se volete un po' spulciare il codice potete andare velo a vedere ma la cosa più interessante naturalmente è che chi vuole creare nuovi livelli o nuove parti del gioco o modificare il gioco magari può farlo perché adesso tutto il codice è MIT disponibile su GitHub open source quindi una bella cosa insomma una cosa che ci tenevo a segnalare e a proposito proprio di licenza MIT vi segnalo che su suno.com suno è un servizio che vi permette di generare delle canzoni delle musiche con anche testo da prompt testuale quindi è AI che genera musica ecco trovate una canzone meravigliosa generata che si chiama Permission is Hereby Granted e chi è esperto di licenza open source si sarà già conto che queste sono le prime parole della licenza MIT e in pratica questa è una canzone con una voce generata dall'AI che assomiglia un po' alla voce di Glados in Portal sempre per gli appassionati dei videogiochi e insomma questa musica questa canzone è stata generata dall'AI e è anche abbastanza piacevole quindi io ve la lascio ascoltare un pochino in sottofondo e poi andiamo a salutarci con questo concludo anche la settimana grazie per avermi ascoltato vi auguro naturalmente un buon weekend e noi ci vediamo a un prossimo episodio del podcastone nella prossima settimana ciao